Ben trovati da Gerardo Paterna per ReTV, altra intervista con un ospite davvero inedito. Oggi parliamo ancora di crowdfunding, quindi come questa tecnologia, questo nuovo pensiero ha cambiato l'accesso all'investimento immobiliare e lo facciamo con Giovanni Buono, Country Manager di Hauser's Italia. Ciao Giovanni, grazie per essere con noi. Ciao Gerardo, grazie ancora per avermi invitato. È un piacere, devi raccontarci un sacco di cose oggi. Allora Hauser's, operativa in Spagna da qualche anno, pochi, avete già raccolto oltre 33 milioni di euro, arriva in Italia, avete già fatto qualche operazione, raccontaci un po' cosa state facendo in Italia. In Italia stiamo sviluppando da un lato le offerte immobiliari da presentare sulla piattaforma, quindi stiamo ricercando quali sono le città, i quartieri, i prodotti su cui si può investire, più conveniti dal punto di vista del ritorno economico. Dall'altro lato ci stiamo facendo conoscere sia come piattaforma sia come formato, investimento, la tecnologia, gli aspetti anche legali, tecnologici, operativi di come una piattaforma con la nostra funzione. Quindi da un lato gli immobili, da un lato gli utenti della piattaforma. Bene, ci sono sempre due aspetti che tanti utenti ancora non comprendono e poi c'è una domanda chiave. Intanto la differenza fra lending crowdfunding e equity crowdfunding, è questo il primo aspetto. E poi il secondo tema riguarda ovviamente i miei soldi come sono garantiti, sapendo sempre, come dico in modo ossessivo, che non esiste investimento esente da rischi. Quindi cominciamo a parlare un po' di queste differenze di modello. Io mi sento di parlarne con confidenza di entrambi i modelli perché AUSES è partita con un modello di equity crowdfunding e poi a gennaio 2017 ha fatto un cambio verso il modello lending. Tra l'altro in Spagna dove siamo partiti senza un quadro legislativo esistente sul crowdfunding in generale, poi siamo stati la prima piattaforma ad avere una licenza per operare in crowdfunding in tutti i modelli perché lì sotto un unico ombrello è stato messo il crowdfunding, direi il fintech in generale. E quindi se hai una licenza per fare una cosa puoi farne tante altre. Come dicevo a gennaio siamo passati al modello lending. Differenza fondamentale, in genere queste piattaforme mettono in comunicazione dei potenziali investitori e delle società che realizzano delle operazioni immobiliari. Il rapporto tra questi due attori, investitori e società, appunto nell'equity e gli investitori entrano nell'equity appunto quindi diventano soci della società, di capitale, della impresa che poi fanno l'operazione, mentre nel lending gli investitori prestano denaro alla società che realizza l'operazione immobiliare, anche se poi il crowdfunding, così come il crowdfunding, si fa anche su altri tipi di attivi, quindi addirittura per dare il totale di circolante un imprenditore, un professionista. Quindi per il meccanismo di base è questo qua. Ci sono un sacco di piattaforme, prestiamoci, la borsa del credito, eccetera, eccetera. Chiarissimo. Che tipo di garanzie, se possiamo dire garanzie ammortizzatori, insomma sicurezza, ecco una rete che prezzarri da una caduta rovinosa dell'investimento, se esiste? Ok, io distinguerei le garanzie operative da quelle legali e quelle della piattaforma tecnologica, quindi garanzie operative. Prima di tutto siamo estremamente cauti nel scegliere l'immobile e la location, cioè città facilmente riconoscibili, Milano, Madrid, Lisbona, quartieri semi premium direi, quindi non la estrema periferia, non il centro che magari è troppo stabile come mercato, ma quartieri che in qualche modo stanno vivendo una seconda giovinezza, quindi il mercato immobiliare ha ripreso una salita o il rapporto tra prezzo di acquisto e opportunità di locazione può essere particolarmente vantaggioso, però senza correre troppi rischi in questo senso. Seconda garanzia operativa, a livello di business plan abbiamo dei cuscinetti, cioè se pensiamo che l'immobile si possa comprare a un certo prezzo, scusa, rivendere a un certo prezzo, il prezzo di vendita dell'uscita dall'investimento lo mettiamo al business plan con un valore più basso, stessa cosa per la locazione, se pensiamo che possiamo affittare un appartamentino a mille euro al mese lo mettiamo in 800, poi ulteriore cuscinetto è un vero e proprio cuscinetto economico nel business plan per far fronte a degli imprevisti, come può essere un ritardo di una società che fa la ristrutturazione, può capitare, o i tempi per trovare l'inquilino ideale possono essere più lunghi del previsto, e lì inseriamo appunto un cuscinetto economico che possa far fronte in quel periodo di incertezza. Tanto è vero che abbiamo lanciato una vera e propria feature su determinati prodotti, quelli messi a reddito che si chiama InstaRent, cioè tu investi e quando finisce il periodo di raccolta ricevi già l'interesse proporzionale al canone di locazione ideale che c'era da business plan durante sei mesi, questo attraverso un cuscinetto economico che viene messo nel business plan, e questo ci dà un margine appunto di sei mesi per trovare un inquilino ideale quando non c'è già. Tant'è vero che su due immobili su quattro dei milanesi abbiamo trovato gli immobili con l'inquilino già pagando un contratto d'affitto, e quindi ulteriore garanzia mostra di come cerchiamo di trovare non l'opportunità ma l'immobile che dà i numeri ma con certa sicurezza. Poi garanzia dal punto di vista legale, i contratti di house che sono contratti di prestito, non sono contratti di prestito qualsiasi ma sono stati strutturati tra l'altro tra studi legali di primissimo livello, sia internazionale, spagnolo, italiano, poi racconterò un ulteriore livello di sicurezza, per far capire la complessità anche del modello che è complesso per garantire maggiormente l'investimento, non per confondere, anche perché tutto questo è pubblicato nella piattaforma e ad ogni progetto tu puoi andare a vedere l'immobile, la società che riceve il prestito, il tipo di contratti, tutti gli attori coinvolti in questo tipo di contratti. Come ti dicevo, un prestito che è partecipativo e convertibile con garanzia ipotecaria, cioè l'immobile fa la garanzia al prestito che l'investitore fa alla società che acquista. La società non ha, o nel 90% dei casi non ha leva, a meno, tranne che alcuni progetti di investimento, a breve termine un massimo di un 25% di leva, però dove il contratto, tanto con l'istituto bancario, che con la società è costruito in modo che l'investitore crowd abbia diritti di precedenza sull'istituto bancario, anche perché questo si riesce a fare con accordi speciali che abbiamo con delle banche spagnole. Quindi questo garantisce che se domani va in default la società che riceve il prestito, che poi default in questi casi è che l'inquilino non paga l'affitto per numerosi mesi, o che non si riesce a vendere l'immobile per due mesi, o non lo riesce a fare la proprietà, il prestito si trasforma in epiti della società, quindi l'investitore diventa un proprietario di un pezzettino dell'immobile. Una volta fatta questa operazione si lancia una serie di referendum, adesso che è molto popolare la strada del referendum, e si chiede agli utenti proprietari di quell'immobile cosa vogliono fare. Se volete vendere a 100, il business plan era a 100, se volete vendere a quel prezzo non riusciamo a trovare un compratore, abbiamo trovato uno che ti offre 98, vuoi vendere a 98? Se il 90% degli investitori dice sì, si vende a 98 e si riprende parte del capitale. Quindi in teoria c'è sì il rischio di perdere tutto il capitale, come qualsiasi operazione, cioè se compri una casa e arriva una bomba, ti distrugge l'appartamento, hai poche garanzie. Però ci sono delle garanzie parziali che noi crediamo che siano abbastanza solide. Ok, ok. E nel caso invece, questa domanda più cattivella, e se fallisse Hauser o se cessasse le attività dall'oggi al domani, che succede? Grazie della domanda perché sui social ho sentito di tutto, anche su qualche testata giornalistica più seria. se sparisce Hauser si è fregato. No, Hauser ha contrattato con una trust olandese, olandese perché la piattaforma è europea, non perché sia interessante il paese in particolare, perché è il più interessante dal punto di vista legislativo. Il trust olandese attiva lo stesso meccanismo di sicurezza, cioè prende il singolo immobile, lo liquida, e restituisce il capitale con eventuale plusvalenza agli investitori. Questo è un meccanismo che avviene automaticamente. Il trust è proposto a fare questo, cioè fa da garante per il crowd, appunto. Ricordiamo che comunque la piattaforma di fatto non incamera i soldi degli investitori, ma è semplicemente uno strumento tecnologico che mette in relazione quindi l'opportunità con l'investitore e diciamo svolge un'azione di regia, di servizio. Esatto, corretto. L'importante, se qualcuno non conoscesse la piattaforma, sottolineare che ogni investitore sceglie la quota che vuole investire in ogni singolo immobile. Questo è l'ulteriore, forse il più garantista dei meccanismi, cioè diversificare, diversificare, diversificare. Se sulla piattaforma abbiamo 50 immobili che si presentano in un certo tempo, il capitale è bene diversificarlo investendo un po' a Madrid, un po' a Lisbona, un po' a Milano, in un locale commerciale, piuttosto che una struttura via ghiera. In questo modo veramente si minimizza la possibilità di perdita del capitale. Tra l'altro questo, se l'utente non è bravo da solo a farlo, noi da poco abbiamo lanciato un nuovo dashboard, un nuovo pannello di controllo dove tu puoi vedere tutti i tipi di investimenti che hai realizzato è un grafico che ti dà il grado di diversificazione del tuo portfolio. Quindi se hai investito tutto in una città, si accende una lucetta rossa, dice guarda attenzione che devi iniziare a mettere soldini in altre cose, in un'altra città, un altro tipo di immobile, un immobile con rendimenti magari più bassi perché ti sei messo in opportunità troppo rischiose. Ultima cosa, ogni tipo di opportunità incastra in tre categorie che hanno un profilo rischio-beneficio proporzionale, dal più basso al basso-medio-alto. Anche lì noi forniamo una matrice dove l'investitore sa dove sta investendo, cioè in che punto della matrice rischio-ritorno sta investendo. Quindi cerchiamo di informare in continuazione su dove sta investendo. Ultima domanda, tu sai che chi ci segue diciamo in grande numero sono gli agenti immobiliari che sicuramente vorrebbero apporti una domanda che è quella, come facciamo nell'ipotesi di avere qualche ottima opportunità di investimento a così presentarla ad Ausers? Perfetto. Come gli rispondiamo? Chiamateci, chiamateci, chiamateci. È molto semplice. Cattaforma. Cattaforma. Quindi Ausers.com, Ausers.it, telefono, email, evidentemente. Attraverso il nostro customer service vi dirigeranno al nostro dipartamento real estate che soprattutto al principio vi orienterà sulle opportunità Ausers che come dicevo sono e rientrano in categorie ben precise. Quindi non proponeteci di tutto ma prodotti che hanno appunto questo tipo di caratteristiche. Di caratteristiche. Perfetto. Penso che il messaggio sia arrivato forte e chiaro. Benissimo. Dai Giovanni, allora il nostro tempo oggi è terminato. Spero di averti presto per un'altra intervista con novità. Ok, quindi salutiamo. Giovanni Buono, country manager di Ausers Italia. Grazie ancora e a voi tutti grazie per continuare a seguirci. Ci vediamo in occasione della prossima intervista. A presto.